Ciao a tutti qui da Is It Gone Air, Shenzander 18, Mon Falcone da Diego e Gabriele. Ok, adesso intervisteremo questo stand. Come vi chiamate? Io Valentina, Glauco, Nathalie, Elisa, Melanie, Veronica. Ok, grazie mille. Come si chiama il vostro progetto? Noi non l'abbiamo ancora chiamata. Le regole del nostro modello è i cartelloni, ma non... Ok, grazie mille. Di che scuola siete? Seconda di Di Mariano. Ok, spiegateci un po' come funziona il vostro progetto, su cosa è... Noi abbiamo basato sul modello, sulle regole del nostro modello. Noi l'abbiamo rappresentato, di solito si rappresenta con delle sfere, invece noi l'abbiamo rappresentato con dei Lego e con bacia con delle sfere. Molto bene, ci mostrate un po' come avete fatto così? Noi abbiamo tanto da rappresentare perché... però noi abbiamo preparato anche dei giochi per fare... Ah, ok, molto bello. La cosa più importante così, di quello che avete fatto? Che si possono rappresentare certe cose, delle formule chimiche, con il nostro modello legate. Per esempio il metano, abbiamo rappresentato C4, che è la sua molecola. C, il carbonio, che noi abbiamo rappresentato da 4, nero. Che sarebbe questo? Che sarebbe questo sotto. E H4 sono dei pezzettini di idrogeno da 1, 4 pezzettini e noi li abbiamo legati insieme. E questo è la C4, non bisogna avere più di due piani così e non bisogna neanche lasciare spazi. Ok, molto bene. Vi siete fatti aiutare da qualcuno quando avete realizzato questo progetto o avete fatto tutto da soli? All'inizio il prof ci aveva insegnato e dopo abbiamo scoperto che c'era questa manifestazione e l'abbiamo portata qui. L'abbiamo studiato e dopo l'abbiamo portata qua. Vi siete divertiti quando provavate tutto? Sì, molto, perché ci trovavamo rientro a scuola e dovevamo provare ogni mercoledì. È un'esperienza che consigliereste ad altri? Beh, sì. Ok, grazie mille. Da qui Isit Goneire è tutto, Scienze Under 18 Monfalcone, la linea Matteo.